Ampia metratura, su strada principale, con un grandissimo cortile condominiale. Ci troviamo a Mendicino, alla località Tivolille. Ed in via San Paolo proponiamo in vendita un appartamento posto al secondo piano. Venite con me! Si tratta di un ampio appartamento della superficie totale di circa 153 metri quadrati, di cui circa 140 sono interni. La zona giorno è composta da un comodo ingresso, un ampio salone di circa 40 metri quadrati e una cucina abitabile di circa 18 metri quadrati con balcone. La zona notte è divisa dalla zona giorno da un corridoio che permette di accedere a due camere da letto, un bagno e un balcone. Completa la composizione interna, il ripostiglio. Il fabbricato è circondato da una grandissima corte condominiale, in cui sono ubicati numerosi posti auto. È recintata e accessibile mediante due cancelli carabili automatizzati e due cancelletti pedonali. È ubicato nel punto più servito di Mendicino, a pochi metri di distanza dalle principali attività commerciali della zona, dalla fermata dell'autobus e dalle scuole. Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento per visitare questo immobile, prendi contatti con la nostra agenzia immobiliare.